La biocco del martis investe bene il suo tempo questo va bene si è produttivo vai 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 la grande russata del martis sarà clash house Guardate in clash house russava come un minchia si sentiva vai raga era allucinante poi non è uscito il video che mi ha dato a leo almeno credo dormiva come un insettone sul divano Minchia zio siamo una blatta eh no raga giuro mi ha dato una foto di lui che stava dormendo aveva le mani tipo in alto giuro raga come una blatta una blatta morta Poi vi ho fatto l'odaccio Mi va di ripetere le cose due volte a cagare fa cagare giuro Francese giuro mamma mia Spiegazione che se stai rosicchiando una baguetta durante la sessione di gioco Ma mi hanno detto dico che durante la clash house non parlavi mai c'eri tipo a social Io sono a sociale perché hai fatto così Non lo so ho presciopero Sembra una lobby curiosa sono rimasti male i ragazzi ho voluto baffo E poi comunque è collocato con la roba senti in colpa Capito? Faccio il suo problema Anche il lozzo non c'è più Erano quelli erano quelli Mi ha fatto Non avere nessun l'odio e di averne 3 in 1 seconda Mamma quest'arma comunque Anche quello solo in dialettica Ti sono capite? Passo un 3 yard sta partita Però c'è un po' che si può Porco 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 Guarda questo Ermand e Han Guardalo qua Spesso ma che serve che abbiamo poco 5 mila giuro Spesso ma che serve che abbiamo poco 5 mila giuro Sì Oddio madonna Oddio Siamo ancora i carreggiati Sono andato nel 3 yarding mode ragazzi Mi sa che mi muto Ruttare? Comunque sopra probabilmente morirò Unità mutismo Aiuto 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 Sì sì Dai raga Eh ma Ma perché ci matcha con questo Ermand che è un demone raga Porco due Ermand demon Ok Guarda qua stiamo slegando Mi stanno prendendo e scopando da ogni buco Ciao di sé Sì 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 no bro, ma se come no bro, ma se come no, 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 no no, no, no no, no, no Però c'è un botto di gente quattorno Viene lo stunner, il stunner va lungo È proprio tryhard out, guarda Zitto, zitto, zitto Fu il tryhard out a casa Non ci credo Questa parete giuro pochissimi kill, raga Questo Nico è super storto Va a giro con i bastoni cale C'ho super paura a pusharla, te lo giuro Quanti soldi Nico per fare un pompino a baffo? Serio? 2 euro Dai Nico, risposta seria, bro Ma un bel ragazzo baffa Sì, ma perché se... Cioè, ma che cazzo c'è? Serio, Nico, poi ti spiego Poche se li mettono sul tavolo, bro, dai, fai anche la scarpa 2 euro Stai abbassando invece di alzare, minchia Basta, raga, io non voglio più giocare No, veramente Zio, per il mio avvento dovresti fare un PG con Martinez In cui PG ha... Ma nessuno mai pensato di fare star Ma per far incazzare la gente Di incurarsi i PG degli altri Un po' bannabile No, no, bannabile no Ma non hai ancora sentito bello Tu consiglio di scarpe un maldotto Sì E tipo, se domani mi faccio un PG Un bare Sì What? Bene, bene Sto provando Il crigone È stupendentemente forte Ma è Io non riesco a fare una kill Che c'è qualcuno che non sento Mi sembra forte Ti giuro È straveloce In tutto C'ha mobilità C'ha danno È buona Squaglia la gente È facile da usare C'ha tutto Dai se no puoi interpretare Nicola Gianni Oh ciccio gamer brother Sarebbe strafanto la roba Eh Doug Eh Dovresti parlare così Ti devo dire Ti devo dire Mamma mia brother Qua sembrava veramente Fosse una bella macchina installata Eh qua si è morto invece Brother aiutami ti prego Ammazzalo C'è un altro a terra Viero L'ho fatto una Perché scrivono in chat Arriva arriva C'è essere bannato Perché ci bannano continuamente Siamo sempre bannati A quel cazzo di sera Ma non è giù Non ho rubato la kill E' stato viero Sono stato io Noi siamo realmente puristi Però perché non è che tu A fare un po' di rp Potrei provarlo Non l'ho mai provato Lo sai Ma ti diverti Dice Le prime esperienze sono divertentissime Sì sì Mai mai provato Le prime esperienze è un perma dopo 20 minuti Sopo un mondo a parte quello Un perma per non fiare estremo Oh Oh Ma cazzo di 100 c'è Via 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 questi matti erano belli questi belli chiusi lì dentro intanati delle belle talpe riuscivo incastrato altre due talpe qua ovviamente buono per uno pier estremo zio vuol dire estremo che dimostri avrei minimamente paura di un cazzo per frega niente come muori automaticamente è fermato sei fermato perché hai fatto una roba che nella vita non faresti mai se la fai vuol dire che si va con la frutta è solo perché ho mangiato una sim da puntato e cosa? solo perché ho mangiato una sim da puntato è perché nella vita reale non lo puoi fare non puoi mangiare una sim da puntato è solo perché io ho detto cosa cazzo vuoi cosa cazzo mi punti non te l'ho notato la notte questo eh no infatti vorrei richiederlo ora se è possibile io ho provato a scappare da puntato cioè purista l'eccezione zio se vuoi se vuoi giocare con lui questo è il pagamento cosa ha fatto questo ha niente di parte nooo appunto per quello deve rientrare nel server z perché serve ma dio bono te lo giuro è hit marker c'è solo la testa busca e ruotica WUKO please revive iu WUKO please revive me man come on go to the fucking sèap cmon come oon WUKO man come on come the show man Lo ritesto Ma com'è possibile che dopo che glielo chiede in maniera così gentile non vada porca troia Sta completamente ignorando poi Non corrisponde il bastardo Ehi Vuko Il Dozenkrig E' bello il Dozenkrig Ehi Ehi Vuko Ehi Vuko Ehi Vuko Nyeee